Glorioso San Pancrazio, a te che doni lavoro e denaro, santo protettore di coloro che hanno serie difficoltà, intercedi da Dio omnipotente per me, fedele servitore di Cristo fino al martirio, grande per la tua umiltà, donami fermezza nella speranza. Vengo da te con immensa fiducia per chiederti di darmi le grazie di cui ho bisogno, in particolare lavoro e denaro. Risolvi questi miei problemi. San Pancrazio, grazie per l'ascolto. Ringrazio voi per volermi aiutare e grazie per i favori che mi concederai. Signore Dio della misericordia, con la tua grazia e la tua gloria, vengo dall'intercessione del tuo glorioso martire, Beato San Pancrazio. Grazie del tuo miracoloso aiuto. Così sia. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come non li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Aveo Maria, piena di grazie al Signore con te. Tu sei benedetta fare le donne e ben detto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Glorioso San Pancrazio, a te che doni lavoro e denaro, santo protettore di coloro che hanno serie difficoltà, intercedi da Dio onnipotente per me, fedele servitore di Cristo fino al martirio, grande per la tua umiltà. Donami fermezza nella speranza. Vengo da te con immensa fiducia, per chiederti di darmi le grazie di cui ho bisogno, in particolare lavoro e denaro. Risolvi questi miei problemi. San Pancrazio, grazie per l'ascolto. Ringrazio voi per volermi aiutare. E grazie per i favori che mi concederai. Signore Dio della misericordia, con la tua grazia e la tua gloria, vengo dall'intercessione del tuo glorioso martire, Beato San Pancrazio. Grazie per il tuo miracoloso aiuto. Così sia. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Come in cielo, così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave, oh Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto al frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Glorioso San Pancrazio, a te che doni lavoro e denaro, santo protettore di coloro che hanno seri difficoltà. Intercedi da Dio onnipotente per me, fedele servitore di Cristo fino al martirio, grande per la tua umiltà. Donami fermezza nella speranza. Vengo da te con immensa fiducia per chiederti di darmi le grazie di cui ho bisogno, in particolare lavoro e denaro. risolvi questi miei problemi. San Pancrazio, grazie per l'ascolto. Ringrazio voi per volermi aiutare. E grazie per i favori che mi concederai. Signore Dio della misericordia, con la tua grazia e la tua gloria, vengo dall'intercessione del tuo glorioso martire, beato San Pancrazio. Grazie per il tuo miracoloso aiuto. Così sia. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Come in cielo, così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come non li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave, oh Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, ben detto al frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Grazie a tutti.